ti sei stancato o stancata di fare squats in palestra per avere un sedere più tonico più tondo più teso e più bello io ho la soluzione senza doverti operare quindi rimani qua e te la spiego per tutti quelli che non mi conoscete buongiorno buonasera hola ciao a tutti sono luiz campos sono medico sono chirurgo mi occupo di medicina e chirurgia estetica vi parlo con questo accento spagnolo ma vi parlo in italiano e voi dite come mai sono italiani e sono spagnolo scusate e vivo e lavoro qua a milano da dove vi sto parlando e oggi vi voglio raccontare questo trattamento che si fa nel studio medico per rassodare il gluteo per aumentare il gluteo il lato b e avere un lato b più tonico sapete che ci sono delle persone che o sono stanche di fare forse il tuo caso siete stanchi di fare squat in palestra per rinforzare il gluteo per rinforzare il muscolo per creare muscolo e avere un gluteo più sodo più tondo e più alto e siete stanchi e non riuscite ad avere questo risultato poi ci sono i casi dove dimagriscono tanto perché hanno fatto una dieta di dimagrimento perché facendo esporsi dimagrisce e quindi il gluteo perde quella consistenza con l'età la pelle più elastica quindi cade un po la pelle e cade il gluteo e non c'è quel riempimento del gluteo ci sono anche dei casi dove la forma del gluteo non piace perché invece di essere tondo nei profili si crea qualche avalamento lateralmente e si potrebbe risolvere e quindi c'è l'alternativa chirurgica e c'è l'alternativa medica nell'alternativa chirurgica vi ho parlato vi parlerò in altri video e sarebbe il lipofilling quindi una liposuzione in sala operatoria il grasso che si ottiene invece di buttarlo di buttarlo alla spazzatura perché il grasso si butta viene riniettato nel corpo per creare i volumi ma qua stiamo parlando di un intervento se volete una soluzione che non sia la chirurgia e che si possa addirittura ripetere diverse volte per aumentare per ottenere il risultato o se non siete convinti e lo volete provare prima di sottoporvi a una chirurgia c'è una soluzione ed è questo prodotto che vi presento questo prodotto è il YACOR MLF2 il YACOR per il body contouring e si tratta di un acido ialuronico ma non è un acido ialuronico qualsiasi sapete l'ho spiegato tante volte che quando parliamo noi medici di acido ialuronico la molecola dell'acido ialuronico è sempre la stessa è una molecola quindi abbiamo l'acido ialuronico con quello che si creano le creme che non è riempitivo come sapete se uno si mette una crema con l'acido ialuronico un siero con l'acido ialuronico non riempie assolutamente niente ma sta idratando e poi abbiamo dall'altra parte l'acido ialuronico riempitivo cosa succede che la stessa molecola in laboratorio si creano delle catene di acido ialuronico che diventano un gel e questo gel può essere più denso o meno denso può essere più soft più leggero per riempire le piccole rughe per riempire un pochettino il contorno del labbro o il codice a barre e possono essere un pochettino più densi più strong più duri per fare i zigomi o il mento o l'angolo della mandibola fino ad arrivare agli acidi ialuronici molto più densi che servono per il riempimento corporeo in questo caso e abbiamo questo prodotto gli accord lmf2 che servirebbe per riempire il gluteo questo prodotto è solo 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 e questo non mi stancherò mai di ripeterlo da utilizzare nel gluteo io per fortuna in questo momento sono i formatori di medici per questo prodotto per questa azienda e nei congressi nei corsi che do sempre ripeto questo ci sono dei coleri che questo prodotto cercano di iniettarlo in viso per risparmiare soldi perché immaginate ve lo spiego perché perché forse non lo sapete dovete essere informati noi quando compriamo noi medici compriamo le fiale di acido ialuronico per il viso di solito sono fiale di un millilitro questa fiala che contiene questa confezione sono dieci millilitri e costa un pochettino di più di quella di un millilitro quindi ci sono dei medici che purtroppo dicono caspita mi compro una fiala di 10 millilitri riempio piccole fialette di un millilitro e mi faccio 10 paziente 10 punturine 10 paziente guadagno di più ma questo è un grossissimo errore e oltre ad essere un errore è una cosa un delitto un reato non so come dirlo in italiano non mi viene la parola ma è completamente fuori della regola medica si sta facendo una cosa completamente illegale perché questo prodotto è stato autorizzato solamente per l'iniezione nel gluteo nel corpo per le sue composi per la sua composizione per la sua caratteristica della molecola quindi nel gluteo sarà meraviglioso l'effetto sarà meraviglioso gli effetti secondari saranno pochissimi nel viso gli effetti secondari le complicanze possono essere gravissime quindi fatti attenzione quando andate da altri colleghi e vi trovate che riempiono le siringhette piccoline detto questo non voglio far polemica ma dovete essere informati perché poi ci sono dei prodotti come è questo che è un ottimo prodotto che utilizzato male si guadagna una cattiva fama ed è capitato in passato che prodotti che erano ottimi sono stato e sono stati ritirati dal mercato per la mala ma l'utilizzo per il cattivo utilizzo che hanno fatto altri colleghi purtroppo questo mondo della medicina estetica è un mondo a volte molto complesso torniamo a quello che vi stavo spiegando di questo acido ialuronico quindi abbiamo una molecola dell'acido ialuronico è stato creato un gel è stato creato in gel molto denso molto compacto che serve solo per riempire il gluteo e quindi ci troviamo come vi dico siringhe di 10 millilitri e io questa siringa vado a iniettarla nel gluteo quante siringhe mi ci vogliono in base al risultato che vogliamo ottenere in base da cosa partiamo ecco dove vogliamo arrivare ci sono pazienti che con tracing in un lato del gluteo tre siringhe nell'altro lato ottengono un risultato bellissimo invece se ci sono pazienti con il culo l'ho detto con il lato v molto svuotato io questo non lo taglio perché a me mi piace parlare tutto di seguito ogni tanto dico delle parole nel spagnolo ogni tanto dico queste parolacce ma mi piace essere più autentico è come se ci parlassimo e stando in studio in studio medico dove non posso tagliare certe cose quindi io lo lascio tutto se poi qualcuno mi prende quel pezzettino e dicono a ha detto q va bene sì l'ho detto parliamo dell'atto v o di gluteo e ci sono pazienti che con tre siringhe da una parte tre siringhe dall'altra ottengono un risultato bellissimo invece ci sono pazienti che hanno bisogno di più perché hanno un sedere un gluteo più svuotato e vogliono un volume molto grande quindi a volte c'è bisogno di fare 10 siringhe da una parte 10 siringhe da un'altra parte è un trattamento che si può ripetere dopo qualche settimana per aumentare ancora di più il volume non consiglio ai miei colleghi quando lo utilizzano di nella prima seduta iniettare grandissime quantità io preferisco lasciare che il prodotto si assesti e caso mai dopo 15 giorni dopo un mese ripetere la seduta per riempire ancora un pochettino di più e un pochettino di più e un pochettino di più fino a raggiungere l'obiettivo come si inietta allora la paziente o il paziente completamente sveglio si fanno delle piccole punturine di anestetico locale nella zona del sedere del gluteo e poi tramite un forelino con un aghetto si fa un forelino un pochettino più grande si inietta il prodotto utilizzando un agocano un lago un pochettino lungo fa un pochettino paura a volte vederlo ma che non ha la punta quindi così si fa la prevenzione di poter creare dei libidi o di poter iniettare nelle zone che non sarebbero corrette iniettare si fa un disegno quindi si comincia a iniettare piano piano questo prodotto nel sottocute noi stiamo andando in profondità noi stiamo andando al muscolo noi stiamo andando sotto il muscolo stiamo riempendo il sottocute lì dove non abbiamo il grasso dove non abbiamo la consistenza stiamo mettendo questo prodotto effetto sarà immediato nel senso che immediatamente iniettato si vede un bel effetto e questo si fa in una seduta che dura 30 45 minuti in base alle siringhe che vogliamo iniettare dopodiché l'effetto immediato si si vede immediatamente ma è un pochettino compatto è come se ti avessero messo due protesi lì nel sottocute quindi può vedersi inizialmente il sedere troppo proiettato come se dentro nel sottocute tu avessi un mattone va bene quello non sarà l'effetto definitivo dopo la seduta si mettono dei ceroti creando una fasciatura per tenere il prodotto su nella zona dove è stato iniettato e si mettono le mutandine o si mette un pantaloncino senza nessun problema si consiglia in quei giorni non fare sport e dormire di un lato o dell'altro lato o addirittura pancia in giù di modo di non comprimere di non prendere il prodotto e dopo una settimana dieci giorni il prodotto si comincia a sestare si comincia a morbidire a distribuire nella zona dove lo abbiamo iniettato e quindi poi toccando non si sente la differenza tra le zone dove non c'è prodotto e le zone dove sì che c'è prodotto distribuendolo bene si riesce a fare un sedere tondo sodo riempito nelle zone dove vogliamo riempire perché se parliamo di un uomo ha un'anatomia si riempiono certe zone se parliamo di una donna c'è un'altra anatomia si riempiono altre zone e come vi dico dopo dieci quindici giorni è quando si raggiunge l'effetto naturale più desiderato il prodotto richiama un pochettino di acqua quindi quello che iniettiamo al primo all'inizio poi dopo qualche settimana sarà un pochettino di più gonfio un pochettino gonfio sarà un pochettino più ripieno perché richiama un pochettino di acqua si idrata come se fosse una spugna si ingrossa un pochettino e l'effetto diciamo il riassorbimento totale del prodotto arriverà dopo dodici quindici mesi quindi vuol dire che dopo quindici mesi l'effetto scompare completamente per evitare che scompaia completamente io consiglio dopo sei otto mesi fare un richiamo qua va scelta io ho dei pazienti che durante l'inverno se ne fregano assolutamente di fare il prodotto perché sono più coperti perché il tipo di avvigliamento non si vede niente quando arriva la bella stagione di estate vogliono fare il riempimento in quel momento si fa il riempimento dura tutta l'estate dopo si riassolve l'anno prossimo dottore ci vediamo invece ci sono i pazienti quelli che sono un pochettino più fisati con il corpo che vogliono sempre avere una bella forma quindi due volte all'anno forse ogni otto mesi si fanno un piccolo riempimento quindi all'inizio la spesa può essere più grande dopo è una questione di mantenimento per evitare il riassorbimento completo del prodotto è acido ialuronico si riassorbe se viene iniettato bene si riassorbe completamente senza lasciare nessuna nessuna traccia e ti dà la possibilità di modellare perfettamente il gluteo che desideri che desideri creare non è un intervento quindi non c'è l'anestesia generale non c'è la sala operatoria si fa in anestesia locale e poi ci sono altre alternative come vi dicevo il lipofilling ci sono le protesi ma di quelle parleremo in un altro video oggi vi volevo presentare questo acido ialuronico c'è un'altra varietà per iniettare un'altra in altre zone del corpo che ve lo spiegherò in un altro video ma oggi mi volevo focalizzare su questo acido ialuronico e specifico per il gluteo io sto ottenendo dei risultati meravigliosi i miei pazienti tanto uomini come donne sono contentissimi e la cosa che mi piace di più è che ripetono quindi se ripetono vuol dire che funziona e che si sentono bene e che piace l'effetto spero che vi sia stato di aiuto di informazione questo questo video questo prodotto se avete più dubbi se avete se volete più chiarimenti qua sotto mi potete lasciare i vostri commenti le vostre i vostri dubbi se vi è piaciuto il video fatemi un like facendo il click qua sotto e se volete più informazioni vi potete iscrivere al mio canale di youtube o alla mia newsletter nel mio sito web o seguirmi su instagram o su facebook mi trovate ovunque qualsiasi cosa che avete bisogno ci sono per risolvere i vostri i vostri dubbi le vostre domande vi saluto buona giornata